Oggi è stata la finalina di Veneto, dove abbiamo fatto il vero di Veneto con il terzo partito in posto. Un proprio di una voglia che siamo riusciti a averla meglio. Ieri contro Siena, oggi contro Treviso. L'unica consolazione è che siamo l'unica delle quattro squadre della finale. I giocatori di Venezia hanno reclutato in una nuova realtà come la nostra di Venezia. Sperando che questa finale sia un buon smiccio per le finali adesso con l'anno del 15 e magari anche con i prossimi anni. Per quanto riguarda la partita, abbiamo ancora le tussine della fatica di ieri. I primi due quarti li abbiamo fatti molto bene, il terzo quarto siamo andati senza batteria e abbiamo scioglitto il break, soprattutto i giocatori di Treviso. Nell'ultimo quarto abbiamo cercato di, con le ubi e di rimanere aggrappati, un po' nella tavola. Ringrazio tutto quanto gli stavoli di Venezia, tutti i miei giocatori, sono veramente orgogliosi di avere la proposta squadra e speriamo di rivederci in prossima.